Musica Agguato a Napoli, accusi a Salvini, si indaga sulla sparatoria a Napoli a due passi dal plebiscito con il ferimento di un ventenne. Per gli inquirenti c'è una guerra in atto tra i clan. Intanto il consigliere Borrelli chiama il ministro dell'interno, meno polemiche, ma su Napoli assente. Malore all'Urd, paura per sepe, il cardinale aveva accusato un mancamento già nel corso del miracolo di San Gennaro. È rientrato in anticipo a Napoli, ma dalla Curia si curano, sta bene, ha ripreso la sua normale attività. Sparito in gommone, giallo a Salerno è scomparso da venerdì scorso un 54enne salernitano, uscito per un'escursione con il suo gommone a vietre sul mare. Senza esito le ricerche della Guardia Costiera e dei Carabinieri estesi a tutto il territorio nazionale. Sprecchi nella sanità nuova lite in regione, Cerambino dei Cinque Stelle annuncia il ricorso alla Corte dei Conti e accusa De Luca per il caso degli angiografi del Pascale. Il governatore respinge gli attacchi che gli arrivano dal Sannio, verso di noi un'indegna campagna di mistificazione. A Tripalda con 5 euro vince mezzo milione, un gratte vinci in Irpinia da 500 mila euro. La fortuna è arrivata in una rivendita di tabacchi di Via Appia, forse un'anziana alla fortunata vincitrice e c'è chi ringrazia il patrono San Sabino. Soldi al sindacato, imprenditori truffati nei guai sette consulenti del lavoro nel Napoletano, la finanza ha scoperto che dirottavano consistenti somme di denaro, fino a 50 mila euro per ciascuna ditta, nelle casse di un sindacato che ricambiava, scegliendoli come docenti per i loro corsi. Eccoci, buon pomeriggio, ma ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura la cronaca uccisero uno dei killer di Jenny Cesarano perché temevano che potesse tradirli. La squadra mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ha quattro soggetti, esponenti del clan dei Lorusso, operante nei quartieri di Miano, Piscinola e Chiaiano, ritenuti responsabili di omicidio e associazioni a delinquere di stampo camorristico. Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonio Buono, 28 anni, e Ciro Perfetto, 22 anni, accusati dell'omicidio di Vincenzo di Napoli, avvenuto a Miano il 9 dicembre del 2015. Le dichiarazioni del capo clan Lorusso e soprattutto del suo uomo di fiducia, Mariano Torre, che di recente ha maturato la scelta di collaborare con la giustizia, riscontrate dalle indagini svolte dalla squadra mobile, hanno consentito di far piena luce sul movente del delitto, sui mandanti e sugli esecutori materiali. La decisione di uccidere di Napoli fu presa da Ciro Perfetto, il quale temeva che la vittima, che aveva partecipato all'omicidio di Jenny Cesarano, potesse tradirli. Chiediamo scusa per le interferenze, ci sono dei lavori in corso, come vi siete potuti accorgere. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Spari e sangue a Napoli a due passi dal plebiscito, forse uno scontro tra i clan Elia del pallonetto e salta la macchia dei quartieri alla base del ferimento di un ventenne avvenuto sabato scorso a due passi da piazza plebiscito. Vediamo il servizio. Alba di sangue a Napoli, in pieno centro, è stato ferito ad una gamba un colpo secco al termine di un probabile litigio nel cuore della Ressa che si forma il sabato notte in piazza Trieste e Trento. La vittima è un ventenne di Napoli, residente nella zona Mercato. Una zona franca quella alla fine di Via Toledo, con Palazzo Reale e il plebiscito che fanno da quinte perimetrali al ritrovo di migliaia di ragazzi. Ore 5, uno scooter che sbuca dai vicoli dei quartieri spagnoli, un colpo secco esploso alla gamba del ragazzo. Si chiama GM, queste le iniziali e di recente la vittima è stata denunciata per raffavoreggiamento in un classico cavallo di ritorno ai danni di un uomo. E non è tutto. Stando agli archivi delle Forze dell'Ordine, la vittima dell'agguato di ieri mattina era stata segnalata nel corso di un controllo assieme ad alcuni soggetti legati a Esalta la Macchia, una famiglia della zona della Pignasecca, rivale degli Elia del Pallonetto di Santa Lucia. Possibile che ci siano stati dunque momenti di frizione nel corso della notte a scatenare la decisione di impugnare le armi e puntare alle gambe del ventenne. Un agguato che si verifica dove due anni fa venne messa a segno una sorta di rappresaglia armata con colpi esplos in aria che raggiunsero un interno domestico, il soffitto di una casa. Dal canto suo Francesco Emilio Borrelli dei Verdi chiama ancora una volta il ministro Salvini. Salvini è assente, troppo impegnato a fare politica, Napoli è diventato da tempo un far west, in città si spara costantemente, anche senza ragione. È arrivato il momento che Salvini venga a Napoli. Agguato nella notte a Pozzuoli, un uomo con precedenti penali è stato ferito da colpi d'arma da fuoco alle gambe in via Cappuccini nei pressi di via Napoli. Ancora da accertare se si tratta di una rapina finita male oppure di un agguato mirato. L'uomo sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter gambizzato con una semi-automatica. Nel raid sarebbero stati esplosi tre colpi. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina ed è ricoverato all'ospedale San Paolo di Napoli. È scivolato su un gradino mentre stava rientrando in sagristia dopo aver celebrato la messa. Fortunatamente per l'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, nessuna conseguenza. Crescenzio Sepe è stato accompagnato in infermeria per un controllo. L'episodio è avvenuto all'URD, in Francia, dove il porporato stava guidando il pellegrinaggio di alcuni fedeli della diocesi di Napoli. L'arcivescovo comunque ha già fatto ritorno in Italia, dove già da questa mattina ha preso parte ai lavori della conferenza episcopale italiana. La notizia si è subito diffusa a Napoli, suscitando apprezzione anche perché l'arcivescovo, lo scorso 19 settembre, nel corso delle celebrazioni per San Gennaro, ha avuto un leggero malore causato dal gran caldo che c'era in cattedrale. Ancora cronaca è sparito da venerdì scorso un 54enne salernitano uscito per un'escursione con il suo gommone a vietri sul mare e proseguono senza sosta le ricerche della Guardia Costiera su tutto il territorio nazionale. Vediamo. Ore di attesa e preoccupazione per i familiari di un 54enne salernitano scomparso nel nulla da venerdì scorso. L'uomo con la sua auto si era recato a vietri sul mare per poi prendere il gommone ed uscire per una gita in mare, come era solito fare. Queste le ultime notizie che si hanno di lui. Da quell'escursione infatti non ha mai fatto ritorno. I suoi parenti allarmati dal mancato rientro si sono recati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Da lì sono partite le ricerche in mare della Guardia Costiera che stanno battendo da giorni lo specchio d'acqua del Golfo di Salerno. Un mistero anche la scomparsa della vettura del 54enne. Il dubbio delle forze dell'ordine è che ci siano altre persone coinvolte in questa misteriosa sparizione. I militari stanno visionando anche le immagini di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso gli spostamenti dell'uomo per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Le ricerche si stanno avvalendo anche di elicotteri che stanno sorvolando tutto il territorio. Diverse le ipotesi potrebbe essersi trattato di un drammatico incidente in mare o di un allontanamento volontario. La procura di Salerno avrebbe aperto un fascicolo di indagine sul caso. La politica all'Italia in buone mani. Lasciateci lavorare. Così il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte al termine della sua visita nel Foggiano, ieri a Volturara, appula al confine con la provincia di Benevento. Il Premier ha evidenzato anche lo stato di precarietà in cui versa l'asse viario che collega la Campania alla Puglia. Migliorare i collegamenti viari tra il fortore Lirpini e i monti Dauni. Creare nuove infrastrutture che possano incentivare un turismo no gastronomico al fine di valorizzare le eccellenze di questi territori. Il Premier Conte chiama tutti a raccolta affinché superando ogni forma di campanilismo si possa raggiungere insieme un unico obiettivo, il rilancio delle aree interne lavorando per il bene comune. Un futuro rosso quello del paese è che stiamo lavorando a questo, senza altro, con grande determinazione, con grande impegno. Vogliamo lasciarvi un paese migliore di come lo abbiamo preso. Al governo c'è la massima determinazione a lavorare compatti per i risultati. Quindi mettiamo da parte le polemiche, non alimentiamole perché noi non guardiamo alle logomachie che vengono sui giornali o che comunque si alimentano anche per quanto riguarda il circuito massimediatico. Pensiamo a lavorare in questo momento per il bene comune. L'Italia è in buone mani, assolutamente. Dovete stare tranquilli, anche il cavalliere Berlusconi deve stare tranquillo. Ha avuto tanti lustri per avere le sue opportunità. Adesso lasciateci lavorare. A Volturara, Appola, dove Conte ha ricevuto anche qui la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese, presente il deputato irpino Generoso Maraia. Ci sono questioni che riguardano il mondo del lavoro, soprattutto che è l'emergenza che stiamo affrontando prioritaria. Ci sono problemi che riguardano anche collegamenti tra Ariano, tra la provincia di Benevento, quella di Foggia e quella della Vellinese. Ci sono problemi ambientali e quindi tutti questi vanno affrontati in maniera seria, un passo alla volta, ma cercando di portare a casa degli obiettivi importanti per queste realtà interne, molte volte dimenticate dalla politica nazionale. All'ospedale Pascale di Napoli ci sarebbero due angiografi digitali del valore di quasi 2 milioni di euro, mai entrati in funzione e mai utilizzati. Uno spreco inaccettabile, attacca il gruppo dei Cinque Stelle in regione, guidato da Valeria Ciarambino. In vista della manovra finanziaria non si litica soltanto per trovare soldi per il reddito di cittadinanza e la flat tax. Stando all'intesa con il precedente governo, il Fondo Sanitario Nazionale dovrebbe ricevere 2 miliardi in più, ma il ministro dell'economia Tria, Stento, può concederne la metà. Per i governatori non è sufficiente. Campania e Lazio, in primis, chiedono le risorse promesse per i farmaci sperimentali e le assunzioni. Il carroccio frena, la Lega propende per ulteriori tagli agli sprechi, mentre Di Maio dice la sanità non si tocca. A Palazzo Santa Lucia, la capogruppo dei Cinque Stelle, Valeria Ciarambino, sposa la battaglia antisprechi della Lega e annuncia un esposto alla Corte dei Conti contro la regione Campania. La vicenda è nota e la stessa Ciarambino in un post su Facebook ammette che se ne sta occupando già da due anni, ma finora niente è cambiato. All'Istituto per i Tumori Pascale nel 2013 sono stati acquistati due angiografi digitali per un costo complessivo di circa 1 milione 800 mila euro. Per ospitarli in un'area dedicata sono stati fatti altri 600 mila euro di lavori, ma poi non sono mai entrati in funzione. Il paradosso è che nel frattempo per fare le angiografie è stato noleggiato un angiografo mobile al costo di 1700 euro al mese. Per chi non riesce a farlo in Campania non resta che andare fuori con un costo per il Servizio Sanitario Nazionale di circa 30 mila euro per ciascuna tromboembolizzazione eseguita. Un vergognoso spreco di denaro pubblico sulla pelle dei malati di tumore, scrive la Ciarambino. E il problema sarebbe che non ci sono i fondi, si chiede la capogruppo dei Cinque Stelle che annuncia anche una nuova interrogazione a De Luca. E il governatore della Campania ieri a Telese nel Sannio smonta tutte le proteste contro il piano varato dalla regione per la sanità. Sentiamo. Abbiamo fatto un lavoro rigoroso, serio, di riqualificazione e di rilancio della sanità nel Sannio che merita rispetto e non demagogia. Il governatore Vincenzo De Luca arriva nel Sannio e smonta le proteste sulla sanità. Lo fa elencando dati e percentuali e chiedendo fiducia. Sulla vicenda della sanità a Benevento abbiamo avuto per alcuni mesi una campagna di mistificazione, di demagogia e di disinformazione che è stata veramente grave e offensiva. La provincia di Benevento è la provincia che ha il livello più alto di posti letto per mille abitanti. In provincia di Benevento abbiamo praticamente quattro posti letto per abitanti, la media ragionale è 3,6 posti letto per abitanti. Abbiamo salvato Sant'Agata dei Coti che sarebbe stata destinata alla chiusura. Investiamo quasi 30 milioni di euro per realizzare a Sant'Agata un polo oncologico. Il Sant'Alfonso di Sant'Agata dovrà intercettare così anche pazienti dell'area casertana e bloccare la mobilità passiva verso altre regioni. Ma il piano messo in campo, dice De Luca, avrà effetti positivi anche sull'ospedale di Benevento. Abbiamo salvato il rummo come dea di secondo livello, cioè come pronto soccorso importante. Lapidario infine su chi esprime dubbi riguardo all'impossibilità di ottenere fondi sufficienti all'avvio del progetto del polo oncologico. La mamma degli imbecilli è sempre incinta. Se De Luca dice che si fanno gli investimenti, si fanno. Almeno su questo nessuno può avere dubbi. Io la parola la mantengo. Intanto il governatore De Luca è protagonista di un nuovo round sulla questione immigrazione. Lo fa per replicare dal proprio profilo Facebook a quelle che ha definito descrizioni sgradevoli fuorvianti rispetto all'episodio che lo ha visto protagonista sabato mattina a Salerno. De Luca ha riportato la sua versione, quella cioè di aver chiamato la polizia municipale per far allontanare uno dei tanti extracomunitari senza documenti, protagonisti di accattonaggio molesto. De Luca ci tiene a precisare che non ha allontanato nessuno che chiedeva l'elemosina e che lo straniero in questione è stato multato con una sanzione da 250 euro che ovviamente non pagherà, ha accusato il governatore. E lo ritroveremo essendo noi totalmente impotenti domani o dopodomani davanti allo stesso supermercato a svolgere con le stesse modalità la stessa attività organizzata. Cambiamo argomento con un gratta e vinci di 5 euro. Ad Atripalda in provincia di Avellino ne sono stati vinti 500 mila. La fortuna in un sale tabacchi di Via Appia. La fortuna bacia a Tripalda, tappa fortunata per l'Irpinia della Dea Bendata che premia con mezzo milione di euro una fortunatissima giocatrice. Sarebbe stata un'anziana donna a vincere la bellezza di 500 mila euro grazie a un ticket del miliardario acquistato nel sale tabacchi di Sabino Taddio in Via Appia con soli 5 euro. Il numero che ha garantito la maxi vincita alla signora è stato il 32. La donna avrebbe già incassato la vincita di circa 470 mila euro al netto delle tasse. Euforia e gioia a lungo Via Appia e in tutto il paese sulle rive del fiume Sabato per la ricca vittoria. C'è chi pensa in paese che a far vincere la signora sia stato la mano del santo patrono, San Sabino, celebrato proprio qualche giorno fa. E io gioco sempre, non prendo mai niente. Non è stata lei la fortunata. No, no, non sono stata io veramente. Con 5 euro. Con 5 euro, madonna. E beh, ben fatto, ben fatto, perché ogni tanto si deve anche vincere, perché sennò tutti se il coraggio manca di giocare. Così cresce. Lei è una cliente di questo sale tabacca? No, abito qui. Quindi può essere una potenziale vincitore? Non sono una che gioca, veramente. Mi dispiace perché ce l'ho qui, la fortuna ce l'ho portata di mano. Sette consulenti del lavoro che dirottavano consistenti somme di denaro fino a 50.000 euro per ciascuna ditta nelle casse di un sindacato che ricambiava scegliendoli come docenti per i loro corsi. Sono stati denunciati dal primo gruppo Napoli della Guardia di Finanza che ha anche confiscato 320.000 euro da un conto corrente intestato a Confimprenditori. Secondo quanto è emerso dall'attività investigativa, i consulenti del lavoro, approfittando della fiducia concessa loro dagli imprenditori, versavano somme di denaro sotto forma di quote associative volontarie attraverso i modelli F24. 30 i casi finora accertati che però secondo gli inquirenti rappresenterebbero solo la punta dell'iceberg. L'indagine è scattata dopo la denuncia di un imprenditore partenopeo il quale grazie all'analisi dei rendiconti annuali della propria azienda ha riscontrato anomalie con riferimento al costo del personale dipendente. Due settimane per i risultati delle prove di carico sul viadotto Gatto a Salerno. Il sindaco Enzo Napoli si dice cautamente ottimista ma intanto aggiunge faremo ulteriori verifiche alle fondamenta. Bisognerà attendere 15 giorni per avere i risultati delle prove di carico effettuate nella notte tra sabato e domenica sul viadotto Gatto. Dati che poi assicura il comune di Salerno saranno resi pubblici nella massima trasparenza. Intanto il sindaco Enzo Napoli assicura che i controlli per la sicurezza non sono finiti e altre verifiche saranno effettuate per avere risultati definitivi sulla stabilità dei piloni che attraversano la città. Prove zelanti. Voi avete raccontato quali sono state le procedure per quanto sia possibile raccontare aspetti tecnici così sofisticati. Sono stati dislocati sei camion di 50 tonnellate cada uno una volta affiancati, una volta su una corsia, una volta sull'altra e poi a scacchiere in modo tale da avere un orizzonte statistico attendibile per le risultanze della prova. Aspettiamo fidociosamente i risultati, i dati aggregati e poi li renderemo pubblici come giusto che sia. Sono previste ulteriori indagini di ispezione anche visiva nei cavedi sottostanti del viadotto attraverso dei cunicoli lasciati ad hoc quando fu costruito il viadotto che sembrerebbero dei tombini, in realtà sono dei cavedi di ispezione. Faremo anche questo dopo di che faremo il monitoraggio 024 del manufatto per gli anni a venire. Parrebbe che le cose siano tranquille però non mi sento assolutamente di avallare un ragionamento del genere aspettiamo, non è che dobbiamo aspettare un anno, dobbiamo aspettare una quindicina di giorni, verificheremo quanto ci verrà sottoposto e lo renderemo pubblico come dicevo prima. Emergenza criminalità nel Vallo Lauro e nella Valle Caudina questa mattina a riunione in prefettura d'Avellino del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla presenza del sottosegretario agli interni Carlo Sibilia preoccupa in particolare il clima nel Vallo Lauro dopo l'escalation di attentati intimidatori ad amministratori locali, colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'impianto di cremazione di domicella, il rinvenimento di due ordigni a Pago Vallo Lauro. Anche in Valle Caudina si sono registrati episodi allarmanti nei confronti di amministratori comunali con minacce e macchine incendiate. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca si teme una recrudescenza della criminalità organizzata in questi due territori. Al comitato hanno preso parte tra gli altri anche il prefetto Tirone, il procuratore aggiunto della DDA Luigi Frunzio, il procuratore aggiunto della procura di Avellino Vincenzo Donofrio, il questore Botte e il comandante dei carabinieri di Avellino Cagnazzo. Decine di lavoratori dei ex centri di accoglienza, i cosiddetti CAS chiusi, hanno incontrato a Benevento i deputati del Movimento 5 Stelle perché sono stati licenziati e non sono stati pagati. 120 famiglie sull'Astrico a Benevento. Si tratta degli operatori, sia dei centri di accoglienza finiti nel melino della magistratura qualche mese fa, sia quelli chiusi dal decreto firmato dall'amministro degli interni Salvini a causa del sovrannumero di ospiti nel Sannio. Questa mattina presso l'Unione Sindacale di Base, incontro tra sindacalisti e l'onorevole Pasquale Maione del Movimento 5 Stelle. Io oggi sono venuto qui ad incontrare e ad ascoltare quali sono le criticità che stanno vivendo gli operatori dell'ex consorzio Maleventum, che in questo momento sappiamo che è stato commissariato e che quindi ci sono dei commissari che devono gestire la fase di fallimento del consorzio. Quindi da loro voglio apprendere un po' quelle che sono le criticità che stanno vivendo. Quello che si può fare anche a livello ministeriale poi lo discuteremo con le persone che se ne occupano per fare in modo che quantomeno vengano sbloccati quelli che sono i fondi che queste persone di cui hanno diritto perché hanno lavorato. I lavoratori che hanno prestato dei servizi lavorativi si sono visti non pagati le loro retribuzioni e ovviamente questa situazione dipende oggi dalla volontà e dalle scelte del ministro dell'interno, del ministro Salvini, che ha deciso al momento di tenere bloccati i fondi per la liquidazione del consorzio Maleventum a causa di tutte le questioni che bene sappiamo insomma che hanno coinvolto il consorzio nei mesi scorsi. L'avvertenza Ipercop 50 lavoratori rischiano di restare fuori dal rilancio promesso da Zeta. Stamattina una partecipata assemblea in vista della prossima tappa al Mise. Vediamo. Sono a un vivio drammatico i lavoratori dell'Ipercop di Avellino. Dopo 138 giorni di lotta il gruppo A Zeta si è detto pronto a rilanciare lo stabilimento di contrada baccanico ma 50 dei 138 dipendenti rischiano di rimanere fuori dal nuovo piano industriale. Sono stati proposti incentivi all'esodo e la possibilità di aderire a una cooperativa per la gestione del bar, una soluzione che però non piace ai lavoratori, che oggi si sono riuniti in assemblea e che il 5 ottobre torneranno al Ministero dello Sviluppo Economico. Non si vedono spiragli, ci sono una serie di indicazioni da parte di un nuovo imprenditore che a nostro avviso non sono accettabili. Vanno fatte delle correzioni perché noi intendiamo far rimanere sul territorio tutti i 138 lavoratori. Oggi con l'assemblea, con tutti i lavoratori, decideremo le volontà di alcuni, se c'è la possibilità di alcuni di andare in altri territori o se no noi puntiamo a far rimanere tutti dentro facendo fare un sacrificio a tutti. Noi non crediamo che si possano trovare altre soluzioni, nel senso che nelle varie riunioni fatte al MIS con i due imprenditore, abbiamo capito che a Z più di questo non può spingere. Se ci sono i volontari che ben vengano, ma non ho idea se si raggiungano quei numeri. L'umore non è dei migliori, dopo tanti mesi, oggi è il 138 giorno, quindi ti lascio immaginare, siamo spituciati. È un travaglio psicologico che dura da troppo tempo e adesso è diventato ancora più pesante il mascigno da portare. Comicità, spettacoli per bambini, ma anche letteratura e teatro civile. Vediamo insieme quali sono le ultime novità della nuova stagione del Teatro delle Arti a Salerno. Spettacoli formato famiglia, show e rappresentazioni per ogni tipologia di pubblico, dai più piccoli ai più grandi. È requisito alla base delle due stagioni di Che Comico e C'era una volta, presentate questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune ed in programma da ottobre ad aprile tra il Teatro delle Arti e il Ridotto di Salerno. Un chiaro esempio di palcoscenico multidisciplinare, uno dei pochi in Campania, come ha ribadito il direttore Claudio Tortora. Il Teatro delle Arti è un unicum che propone più soluzioni, ecco perché siamo l'unico teatro multidisciplinare residenziale, riconosciuto da qualche anno dal Ministero, insomma, e dopo lunghissimi sacrifici abbiamo potuto accedere a queste cose, insomma. Le stagioni sono complete, si spazia dalla danza al teatro di prosa leggero, al teatro di prosa impegnato, teatro off, teatro che è comico, del teatro ridotto, le favole musicali per bambini, insomma c'è il teatro scuola, voglio dire c'è una vasta gamma di scelta, ecco perché oltre a scegliere cinema, insomma, con due sale che funzionano, credo che le persone quando vengono da noi possono scegliere anche di vedere un film, tre spettacoli teatrali per adulti, due comici, uno per bambini, insomma, è diventata un po' la fabbrica dello spettacolo come noi desideravamo. Con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia, adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per aver scelto la nostra informazione anche oggi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.